ciao da salvorusso buon pomeriggio sono in vicolo a via bambitelli ricorderete qualche giorno fa fatto un video dove cittadini ci hanno richiesto di poter dargli una mano abbiamo scritto a comunità di siracusa per chiedere che venissero qui a decespugliare macciapiedi a pulire la strada cosa che non viene fatta da tempo immemorabile con piacere trovo che residenti hanno messo questi volantini scrivendo nel 24 luglio quindi oggi alle 20 e 15 per effettuare il decespugliamento in tutta l'area del vicolo gentilmente non parcheggiata l'autovettura a diecenti a muro grazie questo è stato fatto perché così se l'autovettura non sono a diecenti a muro riusciamo poi stasera agevolmente a dare e fare anche un decespugliamento come vedete sporcizie ce n'è non finirà mai ma la cosa davvero imbarazzante le erbacce che crescono incontrastate oggi l'invito come sempre a tutta la cittadinanza che vuole non solo i residenti che vuole un po' darci una mano ripeto abbiamo chiesto al comune di siracusa ma nulla è stato fatto come siracusa non ha neanche risposto alla pecca inviata magari si poteva aspettare un segnale distensivo dicendo vabbè sapete ci stiamo organizzando il remo e invece il nulla davvero imbarazzante come ci siano aziende pagate e poi di fatto però non viene fatto assolutamente nulla guarda e quindi cosa facciamo ci rimbocchiamo le maniche stasera il comitato attivisti siracusani con i suoi volontari e i residenti dei due condomini qua presenti e qualsiasi cittadino voglia venire alle 20 e 15 ci vediamo qui in vicolo a via bambinelli e cominciamo un cambiamento che deve portare a un miglioramento della nostra città perché altrimenti se ci rassegniamo non cambierà mai nulla la nostra strada rimarranno sporche i nostri mancivieti rimarranno in pessime condizioni con le baci bisogna spendersi in prima persona bisogna attivarsi e bisogna intervenire quando chi dovrebbe chi è pagato profumatamente per fare le cose di fatto poi non fa assolutamente nulla ci vediamo stasera io sono salvo lusso presidente del comitato attivisti siracusani ciao